Ed è proprio qui in questa frazione del comune di Costa in Val Serina per la precisione anche se raggiungibile da servino aviatico e dicevo questa frazione vitaliata che ha i residenti, abitanti residenti, attenzione, uno. D'estate invece la ricerca di un po' di frescura soprattutto in questi tempi, il paesino si popola e si anima un po' di più con qualche affezionato, diciamo così, affezionate persone che magari hanno anche avuto qualche familiare e qualche antenato che abitava qui e qui che i miei nipoti Elena e Walter poi con i loro figli e adesso con i suoi nipoti a loro volta hanno ideato questa giornata davvero bellissima. Grazie alla maestria di Elena davanti ai fornelli che ci ha preparato un ricco arrosto, Walter con la grigliata del tutto speciale, insomma abbiamo passato una giornata nel rinvertire quelli che erano i fasti di una volta, cioè le riunioni anche di famiglia. Il ritrovarsi assieme, il ritrovarsi e raccontarsi magari storie passate e soprattutto cercare di coprire così con questi ricordi magari anche qualche problematica di salute perlomeno che oggi ci può essere soprattutto in noi che siamo anziani. Ed è proprio qui dicevo che abbiamo passato questa giornata splendida e ritrovarci, soprattutto noi quattro fratelli, eravamo in sei, adesso siamo rimasti solo in quattro e che abbiamo ancora tante cose però da raccontarci e da vivere insieme. E lo abbiamo fatto anche attraverso queste immagini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.